Il dialetto possiede una forza espressiva genuina e vera. Con esso è più facile esprimere sentimenti, emozioni o ripercorrere momenti di vita. Conserva la storia e la cultura della comunità che non deve andare perduta. A Fano è il poeta dialettale Elvio Grilli che attraverso le sue poesie fa rivivere la lingua evoluta del dialetto. Elvio, lei è un divulgatore del dialetto fanese. Negli anni ha ricevuto tanti riconoscimenti sia da parte di Fano che fuori Fano in tutta Italia. Ultimamente in questi giorni ha ricevuto un importante premio. Di che cosa si tratta? È un premio chiamato alla cultura che viene assegnato ad una personalità nel mondo che opera nel mondo poetico e nel mio caso nel mondo dialettale. Io ho svolto diverse attività anche verso Senigallia, anche una per la celebrazione del Verdicchio a Cupra Montana oppure quando sono stato chiamato a rappresentare la provincia di Pesaro per la giornata nazionale del dialetto che si è svolta ad Ancuna. Di conseguenza tutte queste attività assieme alla divulgazione del dialetto nelle scuole, negli incontri, per la notte dei licei oppure per tutte le altre manifestazioni tipo Maremonti che si è svolta quest'estate in diverse località di Fano, l'associazione Verdevivo, la combattente, il poderino, oppure per la festa del mare. Si vede che hanno attirato l'attenzione su una tipologia di attività che tende a mantenere le nostre tradizioni e quel patrimonio chiamato immateriale del quale poi fa parte il dialetto. Per lei ha assunto un grande significato, una grande emozione? È un onore essere premiato fuori concorso, vuol dire che le persone che poi non ho una conoscenza molto profonda con le persone che mi hanno assegnato il premio, ci si incontra qualche volta negli incontri poetici, ma è un attestato di stima enorme nei miei confronti. Nel futuro di Elvio che cosa c'è? C'è un lavoro teatrale che andrà in scena il 18 e il 19 marzo alla chiesa del Gonfalone a Fano ed è un lavoro totalmente a scopo benefico a favore dell'Adamo, grazie alla Fondazione Carifano che ha stampato il testo. Devo dire che mi accompagno in questo viaggio ipotetico sulle mie poesie, attori dialettali molto conosciuti, i quali Massimo Gasperini, Paolo Parenti, Florindo Piccini, Costanza De Sandis e Paola Maggi, oltre al regista che a tutti noto Claudio Pacifici, un istrione, un poeta egli stesso che ha dato un suo tocco alla regia. Anche io sono in scena, mi raccomando venite numerosi il 18 e il 19 marzo perché è un lavoro che va totalmente a beneficio dell'Adamo e quindi a scopo benefico.